Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come è andato questo baratto? Per me è andato bene perché era inaspettata questa cosa. Ho trovato un cd che mi interessava però non sapevo come fare. Poi mi sono guardato nella borsa, avevo un evidenziatore, questo, e l'ho barattato con questo. Eccezionale. Sono venuto così. Consiglierà questo baratto a qualcun altro? Certo, può succedere di tutto. È la solitudine ma non la vorrà. All'attacco, miele e tabacco. All'attacco, miele e tabacco.